Le migliori offerte anche nella settimana di Ferragosto le potete trovare come sempre sul sito di Niba, mi raccomando ragazzi, per maggiore info consultate come sempre il link in descrizione. Ebbene sì signori, siamo alla fine arrivati alla quarta stagione della nostra carriera roleplay con Marcelo Gaggiardo qui su Football Manager 2023. Ben ritrovati ragazzi, come sempre prima di cominciare un recap di quanto è successo negli episodi e nelle stagioni precedenti. Lo potete chiaramente recuperare tramite playlist dedicata a questa carriera con protagonista l'allenatore argentino, Mauri Assunto, non fa mai male a nessuno. Dove ci siamo salutati? Dove ci ritroviamo a questo punto di questo episodio? Intanto ci troviamo con un Marcelo Gaggiardo momentaneamente disoccupato. La grande novità è stata appunto quella delle dimissioni presentate a Lille dopo tre stagioni dove sicuramente il Lille step by step è cresciuto sempre di più. Ma nella terza stagione ci si aspettava qualcosa, ci si aspettava un trionfo in Europa League che non è arrivato, ci si aspettava un trionfo nella Coppa di Francia che non è arrivato. Ci si aspettava probabilmente maggiore pressione al PSG che purtroppo non è arrivato perché il PSG sì con Lille in campionato perlomeno non ha mai vinto perché sono stati due pareggi consecutivi, ma il Lille comunque ha totalizzato troppi pochi punti rispetto a quelli appunto realizzati, accumulati al PSG in corso della stagione ottenendo un normalissimo terzo posto. Dimissioni presentate perché le ambizioni di Gaggiardo e della società erano su due livelli totalmente differenti. La società Lille pian pianino, step by step, diciamo che continuando a fare quello che ha fatto il Lille nella realtà in questi anni. Fare mercato grazie alle plusvalenze dei talenti che i loro mister precedenti hanno sviluppato, hanno fatto crescere. Lo stesso che ha fatto effettivamente Gaggiardo e che abbiamo fatto noi in questa career role play. In queste tre stagioni, in tutte le sessioni di calcio mercato, sempre una cessione importante, dolorosa e tramite quella cessione si è fatto poi mercato in entrata. Una normale carriera di football manager o di FIFA? Sì, probabilmente sì, ma Gaggiardo se vuole mettere un attimino più pressione al PSG, se vuole togliersi qualche soddisfazione non solo in Francia ma anche in Europa, ha sicuramente bisogno di un organico diverso. Gaggiardo è arrivato in Europa? Sì, per fare un'esperienza nuova in un nuovo continente. Ma, a parte l'esperienza, vuole togliersi le stesse soddisfazioni che si è tolto in Sud America da allenatore. Però lasciamo il Lille con una reputazione pari al 55%, con tre stelle di reputazione. Tre stelle, ragazzi, non sono tantissime. Stiamo parlando di una reputazione che non è da considerarsi una buona reputazione per poter allenare un gran team. Ed è stato un rischio enorme quello che abbiamo corso, perché lasciare il Lille con così poca reputazione non ci mette nelle condizioni di poter suscitare poi l'interesse di grandi società. Cioè, Gaggiardo vuole fare il salto di qualità in panchina o, perlomeno, non abbassare il livello. Quindi non vogliamo accettare una squadra che sia di una reputazione più bassa del Lille. Ma è un rischio che si può correre, perché quella reputazione lì, diciamo, che non è di grosso aiuto all'allenatore argentino. Abbiamo fatto richiesta al Monaco. Il Monaco accetta di parlare con Gaggiardo. Quindi, quello che vi dicevo, anche se la reputazione comunque è abbastanza bassa di tutto, però può essere di fondamentali, l'importanza per la scelta poi della società, o uno stile di gioco che si addice alla società che ti vuole, oppure in questo caso la, diciamo, nostra preferenza nel puntare sui giovani. Vogliono la Champions League, non la vitro della Champions, ma ritornare in Champions. Io, sinceramente, non andrei a superare l'aspettativa, ma ne tantomeno concorderei una via di mezzo. Cioè, nel senso, secondo me, questa squadra, esattamente come il Lille, può lottare per il titolo, per le prime posizioni. Il budget, ragazzi, sarebbe di 80 milioni, considerando mille e mila cose, 80 milioni. 161 milioni, invece, tutto quello dedicato agli ingaggi. Naturalmente, bisogna considerare però che saranno poi i rimasugli. Cioè, questo è il 161 che loro hanno come, diciamo, tetto poi con tutti i vari giocatori. Quindi, bisogna poi detrarre tutti i soldi che stanno attualmente spendendo. La coppia dei centrali, ragazzi, è fantastica, perché, come ho detto, Guei e Upamecano, ragazzi. Cioè, stiamo parlando veramente di un reparto top, proprio al top, di una squadra proprio forte. Perdi Singoti rimane Lazzari, pensando poi a un nuovo terzino destro. Sulla sinistra hai Carlos Augusto e Lara. Decisamente un reparto che si può migliorare, anche se Carlos Augusto non è messo malissimo. Però sicuramente si può migliorare un attimino. In mezzo a campo hai Yusuf Ufanah. A tre quarti campo è simpatica, perché hai Golovin, perché hai Ferran Torres, perché hai Brian Gill, hai Ben Segir. Però dall'altro, dall'altro c'è il tutto quello che può succedere tramite mondiale. Insieme però ai ragazzi di Twitch abbiamo deciso di rifiutare il Monaco. Ragazzi, dobbiamo essere onesti. Quella squadra ci avrebbe tranquillamente permesso di vincere Ligano, vincere la Coppa di Francia e probabilmente doderci anche delle importanti soddisfazioni in Europa League. L'organico, lo stato della società nelle finanze, era tutto perfetto. Era veramente servito su un piatto d'argento la possibilità di ottenere qualcosa di importante in Francia e non solo. Quello che abbiamo corso, perché lasciare il Lille con così poca reputazione non ci mette nelle condizioni di poter... Abbiamo azzardato, abbiamo azzardato tanto e abbiamo rifiutato. Un azzardo che potrebbe costare caro, poi, la carriera di Gaggiardo. E rifiuto principalmente dovuto al ci siamo stufati dalla Francia. Vogliamo proprio cambiare aria. Lo United praticamente credo che Otenag, o non so adesso chi è allenatore, qual allenatore, è diventato poi... Ah, il nuovo allenatore dell'Olanda. È complicatissimo ragazzi, posso chiaramente provare, richiedere l'incarico è tutto, anche dichiarami interessato. Ma ragazzi, stiamo parlando di una squadra che... Vediamo cosa ha vinto. Ah, ma proprio l'United della realtà, no? Hanno vinto un'Europa League, la seconda della loro storia. La prima con Mourinho, la seconda con Tenag. Beh, l'United con Gaggiardo non starebbe male. Classifica della passata stagione, orco due, Europa League, settimi. Ok, domanda a Porto Respinta, domanda a United Respinta, ce l'ha sempre presa in quel posto. Disperazione. Alla fine il Mondiale non ha portato tutti questi cambi, o perlomeno cambi che ci sono stati, ma società che non sono assolutamente per nulla interessate. Lo stesso Gaggiardo, abbiamo anche provato a dichiararci interessati a una possibile esperienza da CT della Francia o di altre nazioni, ma anche qui sono arrivati puntualmente dei rifiuti. I mesi passano, consapevoli che ormai, se proprio dovrà essere una nuova panchina, una nuova esperienza, un nuovo entrometro per Gaggiardo, sarà probabilmente a stagione in corso. Vedi? Allora, Monaco era no per il fatto che tu non hai venuto un cazzo, uguale anche qui l'Inter, ma un sì per gli under, per i giovani. Qui l'Inter ci dice, non me ne frega un cazzo degli under, ma il tuo fortissimo impegno nel praticare un pressing forse nato se ne andrebbe con bene con la visione societaria dell'Inter. Poi ragazzi, tanto non si va all'Inter, perché ve lo dico io, sicuramente qui ci saranno altri allenatori che sono lì, Marcellino Panevi, cioè non può non esserci Marcellino. Concordo? Ok, se vogliamo avere serie possibilità di essere presi, dobbiamo superare le aspettative. Quindi in questo caso, loro dicono metà classifica? No. Loro dicono Conference League? No. Noi dobbiamo dire Europa League. Io non so cosa dire. A sorpresa salta fuori l'Inter e a sorpresa come per il Monaco sono interessati a Gagiardo non tanto per quello che ha vinto, ovvero 0 nel gioco, perché chiaramente il gioco non prende in considerazione il vero Gagiardo, prende in considerazione la coppia di Gagiardo e la coppia di Gagiardo ha vinto 0. Non ha avuto i successi che ha avuto nella realtà in Sud America. Il Monaco era principalmente interessato al nostro modo di fare mercato, al saper lavorare bene con i giovani. L'Inter invece ha analizzato, in uno specifico, il percorso tattico di Gagiardo. L'esperienza Lille di Gagiardo, senza mai cambiare alla fine la filosofia, la cultura di gioco, ha permesso ad altre società di identificare Marcello Gagiardo, un allenatore focalizzato solamente su quella tipologia di gioco, su quella tipologia di stile. In questo caso l'Inter è rimasta impressionata sul nostro modo di fare pressing. E questa è una cosa che su FM mi piace tantissimo, il fatto di non essere solamente giudicati in base all'esperienza, alla reputazione. Perché come nella realtà, guarda De Zerbi, guarda Gasperini, molti allenatori sono stati valutati principalmente non per quello che hanno vinto, ma per il loro particolare stile di gioco. Io personalmente adoro entrare la stagione in corso. Mi piace tantissimo entrare in corsa in una squadra che non conosci, in una squadra dove non hai fatto mercato, in una squadra dove non sai praticamente nulla. Interessante la storia di questi ultimi anni dell'Inter. Nella stagione 22-23 i Nerazzurri vincono il loro ventesimo scudetto, con Simone Inzaghi. Nel 2024, alla stagione successiva, Inzaghi lascia l'Inter, ma più che lasciare viene esonerato. Esattamente come fu con Spalletti, la famiglia Zhang vuole ripetersi, prendere un allenatore con una reputazione più alta rispetto a quella di Simone Inzaghi. E per 153 giorni, alla guida di Nerazzurri, c'è stato Diego Simeone. Modulo che non cambia, si rimane sempre con la difesa 3, ma licenziamento dopo praticamente mezzo anno. A dicembre 2024 entra in corsa Zinedine Zidane, una rivoluzione. Si rimane sempre con un attore da una reputazione molto alta, ma si cambia radicalmente lo stile di gioco. L'Inter in questi anni, come potete vedere, non ha poi vinto nulla. Nulla con Inzaghi si è vinto un campionato e quattro coppe tra Supercoppa e Coppa Italia. Zero titoli, una rivoluzione poi nello stile di gioco e un mercato che lascia parecchi dubbi. Importa ci va bene, a differenza della realtà, diciamo che la situazione mi sembra essere particolarmente stabile. Onan è rimasto con un'ottima scheda e il secondo e terzo portiere direi che vanno bene. La difesa credo che sia il reparto più brutto di questa squadra. Non posso dire nulla di Alessandro Bassoni, perché è comunque uno dei più forti difensori centrali italiani in circolazione, soprattutto poi all'interno di Football Manager, ma è il solo ed unico giocatore che mi piace di tutto il reparto difensivo. Naturalmente non possiamo minimamente pensare di ritornare con la difesa 3, perché numericamente non ci siamo. Ma forse solo quel problema, ragazzi, qua i problemi sono proprio nelle schede dei giocatori. Chris Seine è un buon difensore, ma non lo vedo affidabile. Ha una valutazione che è folle, ragazzi, è veramente una valutazione esagerata, uno stipendio altissimo, ma nonostante comunque una buona scheda, lo vedo abbastanza inaffidabile. Poco coraggio, un'aggressività che secondo me per quel ruolo deve essere un attimino più alta. C'è sicuramente di meglio, ragazzi. C'è sicuramente di meglio, ma questo è quello che abbiamo in questo momento e essendo a novembre non possiamo fare mercato e quindi ci si deve adattare. Di Marco stiamo parlando di uno dei miei preferiti, l'ho utilizzato anni fa anch'io da braccetto, da difensore centrale, ma siamo tutti consapevoli che riesce a dare il meglio di sé sulla fascia da esterno, da quinto di centrocampo, comunque da terzino in una difesa 4. Il problema poi è Nathan Zese e l'altro difensore francese. Qui proprio il livello si abbassa tanto. Lo stesso Adonis sono giocatori che farebbero fatica e tanta anche in una serie B. Fascia destra affidabile perché abbiamo Denzel Dumfries e Lamptey più Ferdi Kadioglu, giocatore duttilissimo, come può stare? Fascia sinistra, fascia destra, centrocampista, trequartista, all'invertita. Sta a svolgere praticamente tutti i ruoli. È un po' il Saul Niguez turco, per intenderci, visto appunto la sua scheda, la sua affidabilità, la sua duttilità. Sulla sinistra non si ha un vero sostituto di Federico Di Marco. Lo abbiamo, ma esattamente come i difensori centrali non ha tutta questa, diciamo, esperienza, affidabilità per poter giocare tante partite in Serie A. E parliamo dell'argentino Franco Carboni, che a me in questi anni non è cresciuto più di tanto. In mezzo al campo l'Inter non ha mai, diciamo, sostanzialmente, svecchiato la squadra, non ha mai preso decisioni forti. E se devo essere onesto, diciamo che sono state tutte, secondo me, decisioni completamente sbagliate. Sicuramente tanta roba la permanenza di Nicolo Barella, ma esattamente come Bastoni è l'unica nota positiva, poi, di tutto il reparto. Barella, esattamente come Pertonali, sono quei giocatori che su Football Manager mantengono comunque certe qualità, certe fantastiche caratteristiche fino al termine della loro carriera. E qui, a quasi 30 anni d'età, ci ritroviamo il Barella top. nella condizione top, nel suo proprio massimo stato di forma. Chiaro, molti dicono, ma mister, ma che fai? Dici che ti la mente poi a Zakarian? È un super giocatore, però, centrocampo, ragazzi, lui secondo me è più trequartista, infatti, poi parleremo anche della trequarticampo, però, soffermandoci sui centrocampisti, diciamo che è un Inter che deve svecchiare. Siamo tutti d'accordo che Brozo, invece mentalmente, tecnicamente, è ancora un giocatore fantastico, ma fisicamente riporta dei problemi che, vista l'età, visto poi anche il calo che avrà col passare dei mesi, sarà sempre più grave e sarà poi un problema che l'Inter farà fatica poi a gestire. Parlo di Brozovic, ma è un copia in colla che vi posso fare sia per Verratti e sia anche per William Carvalho e aggiungiamo anche a Cancelanoglu. Stesso identico problema, mentalmente e tecnicamente giocatori top, fisicamente però non ci sono più. Trequarticampo, invece, è un mix di esperienza e giovani che può essere particolarmente interessante. La scheda di Zakarian l'abbiamo già vista, guardiamo quella di Asensio. Ha la top class, giocatore che può svolgere ogni ruolo sulla trequarticampo e volendo non solo. Scadenza di un 1028, quindi tra poco bisogna prendere una decisione, pensare a un rinnovo, pensando anche di spendere abbastanza nel contratto del giocatore o ultima opportunità per venderlo a delle cifre interessanti. Gagliardo, Gagliardo, gli argentini, Carboni deve giocare, Carboni vogliamo valorizzarlo. È un Carboni un po' in ritardo nella sua crescita, poi nella sua formazione, per il semplice motivo che in questi anni ha totalizzato troppe poche presenze, ma con Gagliardo l'obiettivo è semplice, esattamente come abbiamo fatto con Lille, valorizzare i giovani ed è quello che cercheremo di fare con Carboni. La punta di riferimento è l'esperto Anthony Martial che nella realtà con lo United sembra pronto per andare via, per lasciare Manchester e qui nel gioco trova nell'Inter, nella Milano, nella Razzurra un bell'ambiente per rimettersi in mostra, per tornare ad essere protagonista. Effettivamente lo è, però anche qui tante sono le valutazioni da dove fare. Intanto un giocatore che sì, ha una buona scheda, ma quanto può durare questo stato, questa condizione, questo Anthony Martial che ti porta comunque dei buoni numeri che poi tanto buoni insomma, parliamone, perché 16 presenze e 5 gol diciamo che si può fare molto meglio. L'Inter è corsa poi ripari perché sa bene che comunque Martial inizia ad avere una certa età, diciamo che Martial nel corso della sua carriera non ha mai portato continuità nei risultati, nei gol, nelle prestazioni positive, quindi corre a ripari, prende un giovane talento, un giocatore che nella realtà se ne parla un gran bene al Salisburgo, stiamo parlando di Karim Konaté. Però Zidane Konaté non lo vedeva più di tanto e personalmente anch'io Konaté non so se essere convinto di puntare seriamente su di lui. Non è mai troppo tardi, è chiaro, però bisogna anche capire che noi dobbiamo far bene. Tra poco guarderemo anche la situazione in classifica dell'Inter. Non è bella ragazzi, è tragica, ma spulciando un po' meglio la rosa siamo capitati di fronte alla scheda di questo Emanuele Costi. Giocatore nato, cresciuto all'Inter, giocatore che prima di noi, prima di Gaggiardo ha utilizzato una sola presenza, il suo debutto nell'Inter dei Grandi a partita e corso in Champions League ed ha pure segnato. Da lì poi non è stato più utilizzato e io dico beh, insomma, un ragazzino che ti entra in Champions, una partita molto importante e segna, qualcosa di speciale può avere. Certo, esiste anche la botta di fortuna, ma guardando certe caratteristiche diciamo che non è poi così male. Probabilmente il suo contesto ideale è la fascia, esattamente come viene riportato in gioco, il suo ruolo naturale è quello di attaccante esterno all'invertita o ala. In Gaggiardo però inizialmente all'Inter volevamo giocare a due e quindi abbiamo detto beh, Costi Martial, un attaccante che protegge, che aiuta i compagni, che serve passaggi, che si abbassa, che colleghi i reparti, stiamo parlando chiaramente del francese, e poi un altro attaccante che magari pensa diciamo solamente a finalizzare e il pensiero è andato proprio a costi. Zidane è stato esonerato lasciando l'Inter al nono posto in classifica. In 13 partite l'Inter è attualizzato solamente 17 punti, ci sono già ben 11 punti di stacco dal Milan che occupa la prima posizione. Anche in Champions la situazione non è delle migliori, se dovesse finire qui l'Inter in questo momento sarebbe fuori dalla Champions League e non esistendo più il concetto di retrocessione all'Europa League, la nostra avventura in Champions potrebbe seriamente interrompersi già da questa fase. e le dinamiche non sono fantastiche, non ci lamentiamo dell'affiatamento, non ci lamentiamo dell'atmosfera, ci lamentiamoci ad aver paura sul sostegno allenatore. La dirigenza ha scommesso su di noi perché gli piace il nostro stile di gioco ma i giocatori vedono in Gaggiardo sostanzialmente un perfetto sconosciuto quindi servirà tempo poi naturalmente per convincere i ragazzi a seguire totalmente le indicazioni del mister argentino. Quando abbiamo lasciato il Lille ha lasciato insieme a noi gran parte del nostro staff, staff che abbiamo formato appena arrivati a Lille. Quindi Salaberry, Vidal, Micharelli, Baronio, Murle, Squadrone, tutti elementi che erano con noi a Lille e che sono tornati con Gaggiardo all'Inter. Questo è un aspetto che mi piace molto a discapito anche della poi qualità dello staff che non è diciamo attualmente eccezionale soprattutto per quanto riguarda l'allenatore dei portieri ma volevo fortemente lo stesso staff che ho avuto a Lille. A gennaio ci siamo dati alla pazza gioia. Vi ho parlato di ma può essere l'anno buono per vendere Asensio a delle buone cifre? Sì, effettivamente è arrivata una buona offerta per Marco Asensio ne abbiamo approfittato 40 milioni che possono diventare 46 ceduto il 13 gennaio al Monaco. Quei soldi ci hanno permesso di poter completare diverse operazioni e di poter rinforzare certi reparti. La riserva di bastoni è una nostra vecchia conoscenza Valentin Gomez preso quando appunto stavamo a Lille non penserò di utilizzarlo titolare come è stato con Lille ma appunto riserva di bastoni. Esperienza affidabilità quella che in parte doveva portare Christensen ma che non l'ha portata la porterà speriamo Antonio Rudiger prestito oneroso con diritto di riscatto che non so se applicherò da Real Madrid. Leo Ostigard il norvegese ritrova l'Italia dopo l'esperienza con Genoa e con Napoli andando a Milano andando all'Inter e diventando poi effettivamente il titolare insieme a bastoni. In scadenza di contratto col Milan accetta il contratto con l'Inter ma non abbiamo avuto intenzione di aspettare giugno perché l'accessione di Asensio ha cambiato ha stravolto i piani Brem Diaz preso subito Brem Diaz diventa già gennaio il sostituto di Asensio e un nuovo giocatore dell'Inter. Un centrocampo da svecchiare serve un giocatore giovane ma già pronto e credo che il 22 Tommaso Milanese abbia le caratteristiche necessarie per essere un centrocampista titolare dell'Inter. Acquisto di Milanese forzato anche per un altro motivo ma ve ne parlerò tra poco. Chiudiamo il mercato in entrata con una vecchia conoscenza la passata stagione all'Ile con uno dei possibili obiettivi di mercato dell'Ile per la nuova stagione ma non essendo rimasta all'Ile abbiamo deciso di completare questa operazione all'Inter. Il vincitore dell'edizione Next Generation del 2027 è stata vinta da Jorge Hernández aveva una clausola recissoria esattamente di 10 milioni e mezzo cifra spesa dall'Inter il messicano arriva il messicano convince il messicano sarà poi a partire della prossima stagione un titolare inamovibile dello scacchiere di Gaggiardo o chissà poi dell'eventuale nuovo allenatore dell'Inter ma comunque credo che Jorge Hernández sia stato un ottimo colpo anche perché vedete già la valutazione ed è già insomma una super plusvalenza potenziale perché poi bisogna effettivamente venderli per renderle poi in realtà mi sono lamentato tanto del centrocampo dell'Inter ho esaltato tanto le qualità e l'importanza di Nicolo Barella beh ragazzi il 25 novembre pochi giorni di Gaggiardo nuovo allenatore dell'Inter arriva una notizia orribile la rottura del tendine Achille per Nicolo Barella il primo vero importantissimo infortunio della carriera di Nicolo Barella 4 mesi di assenza quasi ormai diciamo tutta la stagione disperazione più totale perché veramente mandare in campo quei giocatori sia affidabili mentalmente e tecnicamente ma inaffidabili dal punto di vista fisico è stato un grosso rischio è stato un grosso problema e in alcune circostanze è stato anche proprio motivo di sconfitte di prestazioni diciamo non particolarmente belle da parte del nostro 11 ma poi appunto tra poco entreremo più nello specifico guardando i risultati a livello tattico ci sono stati molti cambiamenti inizialmente 4-2-4 poi difesa 3 e poi alla fine 4-2-3-1 questi tre moduli ho avuto modo di vederli su un articolo del nuovo calcio una rivista che prendevo mesi fa che ho ritrovato a casa e proprio a casa appunto in questa rivista sono poi imbattute in un articolo di ben 4-5 pagine dedicate appunto a Marcello Gaggiardo a River Plate e appunto tra le tante cose scritte tra i tanti commenti riguardo appunto quest'articolo sono imbattuto in tre disegni in tre moduli moduli che ha avuto modo di utilizzare Gaggiardo ripetendo appunto sostanzialmente quello che sto ripetendo in tutta questa carriera all play nel senso che nel corso della sua carriera ha spesso cambiato il disegno ma non l'impronta lo stile di gioco quindi come sempre ragazzi nuovo modulo ma stesse istruzioni mentalità fase in possesso transizione e non in possesso pensando ad inizio stagione pensando poi a quando è subentrato Gaggiardo in campionato abbiamo recuperato tantissimi punti vittoria col Napoli Spezia Sassuolo Lazio Empoli Torino Regina insomma fino a metà gennaio è un Inter che poteva seriamente pensare a una rimonta quasi impossibile e appuntare il Milan capolista poi però quando meno te l'aspetti arriva una sconfitta inaspettata ma giusta ma corretta senza se senza ma contro la Cremonese un piccolo sbandamento un piccolo incidente di percorso perché poi arriva la reazione 3-1 con la Fiorentina 6-1 addirittura col Verona poi però nella partita dove non puoi sbagliare nella partita dove devi solamente vincere se vuoi riscrivere la storia del campionato vai a perdere e vai sostanzialmente a porre poi la parola fine a questa stagione perché il Milan con questo derby di ritorno non si aggiudica già in anticipo il campionato ma è davvero molto vicino a un nuovo successo all'ennesimo campionato vinto dal Milan di Ancelotti perché sì allena è tornato Carlo Ancelotti e sono ritornati i bei risultati che ha portato Ancelotti nella sua prima esperienza d'allenatore rosso-nero perché stiamo parlando di due edizioni vinte dal Milan che molto presto diventeranno tre cosa mai successa nella storia recente del Milan cosa che sta portando il secondo atto d'allenatore di Carlo Ancelotti però rimane comunque una situazione diciamo abbastanza positiva visto come avevamo trovato l'Inter e visto in questo momento dove siamo otto giornate al termine del campionato con quei punti di stacco dal quinto posto dovremmo essere relativamente tranquilli una Champions da giocare la prossima stagione ma a proposito di Champions che fine ha fatto poi l'Inter? beh intanto partiamo dalla prima partita ufficiale di Gaggiardo alla guida dell'Inter emozioni pure perché titolare la scommessa Costi Costi segna una doppietta Costi purtroppo è stato vicinissimo a una tripletta quel rigore sbagliato al 94esimo pesa veramente tanto pesa tanto perché poi ad Amsterdam l'Inter perde 2-0 doppietta di Wink e un risultato che pesa tantissimo ai nerazzurri con Nizza il primo successo ufficiale di Gaggiardo da allenatore in Champions League l'Inter trionfa per 4-0 obbligate a vincere per avere un minimo di possibilità per poter prendere parte almeno gli spareggi in casa a San Siro pareggiamo 2-2 con lo Shakhtar e vi mostro le statistiche perché potevo tranquillamente dire classica partita dove va tutto storto ma no ragazzi qui in realtà l'Inter ci ha provato ma non siamo stati bravi non siamo stati in grado lo Shakhtar è stato superiore a noi con un organico decisamente inferiore ma a livello di prestazione oggettivamente superiore perché per più volte in casa da noi a San Siro ci hanno messo in difficoltà e noi salviamo la faccia ancora una volta grazie appunto ad Emanuele Costi non c'è nessuna Europa League non c'è un'altra competizione da giocare questa è la stagione di Gaggiardo dall'Inter una stagione dove era anche difficile pensare di uscirne vittoriosi tra campionato e Champions ma sicuramente ci sarebbe piaciuto diciamo dare più brivido al Milan in campionato e allungare poi il nostro percorso in Champions League prendendo parte almeno agli spareggi ci sarà tantissimo lavoro da dover fare soprattutto nel mercato in entrata ma pensando anche ai tanti addi che potrebbero appunto presto esserci all'Inter a giugno perché sia Brozovic Carvalho Cadioglu e Rudiger tra prestiti e scadenze di contratto l'Inter potrebbe perdere diversi elementi alcune operazioni in uscita ci sono state alcuni tentativi di risparmio ci sono già stati la cessione di Verratti che si ritirerà gli ultimi mesi da calciatore decide di chiudere la carriera in Francia Altrua ci hanno permesso di risparmiare abbastanza nel monte in Gaggi e questo risparmio continuerà a esserci perché l'addio di Brozo Carvalho Cadioglu Rudiger o poi anche eventualmente di future cessioni di giocatori che non hanno convinto nel corso di questa stagione è chiaro come ho già detto che si tratterà di rivoluzione ma anche di un bel risparmio visto anche le cifre folli che vediamo riportate in questa rosa c'è comunque già stato un effetto gaggiardo perché esattamente come con Lille noi con i giovani ci troviamo benissimo i numeri di Orga Hernandez nella sua prima esperienza in Europa in Italia sono 9 gol e 2 assist siamo al 31 marzo la stagione deve ancora finire quei numeri possono migliorare Anthony Marziale l'abbiamo trovato con 5 gol è diventato leader perché 19 gol 8 assist una stagione fantastica la sua forse una delle migliori della sua carriera e poi la scommessa Costi che segna nelle partite decisive non gioca tanto ma quando gioca risponde sempre presente con ottime prestazioni 8 gol e chiudiamo col connazionale di Gaggiardo Valentin Carboni che dalla panchina o da titolare ma comunque sta accumulando il suo minutaggio sono 5 gol e 2 assist chiudiamo con Brem Diaz ha sostituito Asensio nel migliore dei modi 4 gol e già 6 assist sicuramente ci sono delle certezze sicuramente l'Inter ha dei punti di riferimento Gaggiardo ha i suoi pupilli ha i suoi uomini che qualora appunto dovesse rimanere all'Inter confermerà nella prossima stagione ma appunto si parlerà dalla prossima stagione di rivoluzione nera azzurra perché tanti saranno i cambiamenti e l'Inter soprattutto deve assolutamente questa volta non sbagliare il mercato di entrata né tanto meno in uscita perché dalla prossima stagione non è ammissibile chiudere la stagione con zero titoli questa carriera la continua a portare in live su Twitch se volete mi trovate in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì e un giorno tra sabato e domenica a partire dalle 14 link come sempre di Twitch e dei miei altri social in descrizione e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo episodio ciao a tutti